buongiorno a tutti andiamo avanti con la nostra lettura del libro di giobbe siamo arrivati al capitolo 3 nei primi due capitoli abbiamo visto in un certo qual modo una parte importante del libro che è una sorta di introduzione una sorta di elemento che ci permette di capire che cosa realmente sta succedendo abbiamo visto quest'uomo giusto timorato di dio un esempio per tutti che viene colpito dalla sventura viene colpito non da una punizione divina perché abbiamo visto che dio stesso afferma che giobbe non ha fatto nulla per meritarsi tutto quello che sta ricevendo ma giobbe è l'elemento di una sfida una sfida che dio stesso che inizia per ben due volte e quindi la dimostrazione che dio che ne sta tirando le fila e si serve in un certo qual modo dell'astuzia di satana per portare avanti i suoi progetti l'obiettivo di satana è quello di far cadere ogni uomo a partire ovviamente dalla dalle trappole nei confronti di adamo ed eva fino alle tentazioni di cristo l'obiettivo di satana è sempre quello di cercare di strappare gli uomini e le donne di dio dalle mani di dio ma questo sarà impossibile ovviamente ed è impossibile anche nella vita di di giobbe dio stesso che gli darà la possibilità di rimanere saldo nella propria fede e abbiamo visto un uomo che perde tutto un uomo che ha perso l'affetto dei figli ha perso le proprie ricchezze ha perso la propria salute quindi è un uomo tormentato dal dolore fisico ed emotivo è un uomo non aiutato dalla moglie un uomo che riceve abbiamo visto la visita di tre amici tre amici particolari tre persone comunque sagge e importanti che cercano di andare a consolarlo che non lo riconoscono perché vedono un uomo completamente diverso rispetto a quello che loro ricordavano e quindi dal capitolo 3 si apre una sezione molto lunga la sezione dei dibattiti finirà al capitolo 37 quando poi inizierà a parlare dio in persona e questa diciamo questa lunga lunghissima sezione dal capitolo 3 al capitolo 37 è divisa in cicli quindi ci saranno tre cicli di affermazioni di giobbe e della risposta dei tre amici dove poi giobbe darà delle risposte e questo questo tipo di di ciclo si ripeterà tre volte fino a che poi giobbe farà il suo discorso finale inizierà poi a parlare liu questo quarto amico che è giunto più giovane degli altri ma che manifesterà come credo sappiate più saggezza dei primi tre non verrà ripreso da dio per le parole che lui stesso dirà a differenza degli altri tre amici e in questa fase che inizia adesso inizia una fase più complessa nel senso che il capitolo 3 si concentrerà soltanto sulla affermazione di giobbe nel senso che sarà giobbe rompere il silenzio per una settimana abbiamo visto ieri che gli amici rimangono seduti per terra nessuno parla però poi gli amici inizieranno a rispondere e come vedremo diciamo domani non sarà semplice perché le risposte sono giuste ma non sempre giuste ma da un punto di vista sbagliato da domani vedremo meglio questo aspetto però ecco inizia questo questo discorso di giobbe giobbe rompe il silenzio e inizia a parlare cosa vedremo nel capitolo 3 vedremo un uomo che è disperato e preferisce la morte alla vita non avrà mai istinti suicidi perché nonostante stia soffrendo in modo incredibile e tutti i suoi discorsi sono proprio fatti all'interno di questa terribile sofferenza sarà comunque un uomo che avrà sempre in vista la sovranità di dio quindi è consapevole che l'unico che ha diritto di togliere la vita è sempre dio ciò nonostante inizia a fare discorsi di morte dicendo sarebbe stato per meglio sarebbe stato meglio per me non essere mai nato meglio non aver avuto figli piuttosto che vederli morire meglio non aver avuto il benessere la ricchezza per poi finire in questo stato per poi perdere tutto in questo modo meglio non aver gustato la vita per poi vedere una sofferenza così grande un dolore così grande una situazione così vuota e poi messo da parte il discorso del del desiderio di non essere mai nato di non essere mai stato neanche concepito inizia ad avere un altro pensiero forse è meglio essere stato concepito ma morire come un aborto meglio per dire essere comunque stato concepito e generato da dio ma non aver mai visto la luce piuttosto che poi essere inserito in queste grandi sofferenze piuttosto che essere colpito così tanto quindi job inizia una situazione di disperazione non giudicano mai in modo superficiale job perché come dicevo job sta soffrendo in modo indicibile in modo profondo e quale può essere l'applicazione per noi delle cose che leggeremo nel terzo capitolo a volte anche noi possiamo arrivare a disperare di noi stessi ci possono essere situazioni in cui anche noi forse preferiremmo non essere mai nati o essere un aborto che non ha mai visto la luce del sole ma se il signore ci ha donato la vita se il signore ci ha donato la possibilità di costruire delle relazioni ne val sempre la pena anche se poi queste relazioni cessano se ci ha dato da godere del benessere ne val sempre la pena anche se poi questo benessere passa se ci ha dato di fare qualcosa all'interno di questa vita è sempre comunque un dono suo che il signore possa sostenerci nei momenti di dolore e difficoltà che magari ci coglieranno da qui a breve o da cui magari siamo passati o dovremmo passare i nostri cari affinché ricordiamo sempre che dio comunque ha un piano buono per noi e spesso noi non lo vediamo concludo con questo punto prima di leggere appunto capitolo 3 al versetto 23 lui dice dio mi ha stretto in un cerchio satana aveva parlato di un cerchio del genere aveva detto tu hai protetto giobbe come da un cerchio tu proteggi tutto quello che lui possiede e giobbe in quel momento non lo realizzava neanche ma quando questa protezione in un certo qual modo sembra venir meno ecco che realizza invece un cerchio di di vuoto di disperazione che signore ci aiuti a non fare in questo caso l'errore di giobbe a apprezzare sempre il dono della vita e vedere sempre la sua mano nei momenti di difficoltà e di dolore che signore ci aiuti ancora anche oggi a realizzare che lui ha sempre cura di noi anche quando il dolore sembra grande profondo anche quando siamo smarriti la vita è sempre un dono che lui ci fa ed è sempre qualche cosa di immeritato non meritiamo la gioia ricamolo sempre anche quando riceviamo un apprezzamento una carezza un sorriso un gesto cordiale nei nostri confronti un piccolo accenno di felicità è sempre un dono immeritato ciò che meritiamo per natura e l'inferno è il dolore e la disperazione che possiamo invece apprezzare il fatto che dio non ci tratta mai per quello che noi realmente meritiamo che il signore possa benedire anche questa giornata per ciascuno di voi amén